Fabio, una partita costruita minuto dopo minuto, i primi 20 minuti equilibrati, bisognava proprio un po' avere una posizione dell'avversario, sono partite mai facili queste, l'avete messa in caralata sul minaglio giusto per poi costruire un successo rotondo. Sì, prima di tutto voglio dire che dedichiamo questa vittoria al nostro compagno Gianluca Turchetta che purtroppo si è infortunato settimana scorsa, ci dispiace tanto, lo aspettiamo e non vediamo l'ora che torni più forte di prima, volevo iniziare un po' con questo che è una cosa che sentivamo proprio tutti i compagni. Poi come hai detto tu, sì, abbiamo fatto una buonissima partita, magari abbiamo iniziato un po' così così, dovevamo prendere un po' le misure perché abbiamo giocato con un altro modulo oggi, però poi l'abbiamo incanalata nel senso giusto, non era assolutamente una partita semplice perché loro subivano pochi gol e quindi era una partita rognosa, noi siamo stati bravissimi a incanalarlo nel modo giusto e a portare a casa i tre punti che oggi erano fondamentali. Loro non potevano andare in trasferta, hanno preso 258 minuti, quindi è stato molto importante. Quest'azione comunque da evidenziare da parte del collettivo, cambiato modulo, cambiato anche i giocatori, ancora una volta la conferma che il collettivo c'è, chiunque è chiamato in campo è sempre pronto a dare il massimo. Sì sì, l'abbiamo dimostrato anche oggi, poi io sono dell'opinione che il modulo conto fino a un certo punto, se abbiamo l'atteggiamento che abbiamo avuto sempre fino adesso è che quello che ha fatto la differenza per ora è uguale, se giochiamo 4-3, 3-5, 3-4, possiamo giocare in qualsiasi modo. Poi i ragazzi che sono stati chiamati in caso oggi perché avevamo parecchi infortuni hanno dimostrato che ci sono, che meritano tutti di giocare e questo è importante, questo fa grande veramente una squadra e adesso dobbiamo solamente andare avanti così e continuare su questa linea. E poi c'è il primo gol stagionale? Finalmente direi, no io sono contentissimo dai, sono contento, poi sono contento soprattutto io sono contento quando vinciamo, quando si vince e quando la squadra fa bene, poi il resto se viene anche il gol dai va bene, anche così. Per fare il salto di qualità cosa sarà? Ma per fare il salto di qualità penso che bisogna fare il step in più contro le grandi del campionato, anche perché fino ad ora abbiamo, diciamo, steccato sempre contro di loro e quindi bisogna fare quel saltino in più per diventare una squadra forte in tutti i sensi. quant'è dal tuo punto di vista la partita è stata? È importante sbloccarla? È stata importante sbloccarla ma sicuramente è molto più importante chiudere all'inizio secondo tempo perché come ha detto Fabi non era facile contro di loro che sono una squadra che si difendono bene, subiscono pochi gol, è stata una partita tosta anche dal punto di anche in campo, però ripeto siamo stati bravi noi a chiudela e anche io voglio fare una dedica speciale soprattutto per il gol, ma anche per la vittoria a Gianluca Turchetta che ci ha lasciato fino a fine stagione per un infortunio e quindi li facciamo il più grande in bocca al lupo. Anche da parte tu la considera che questa squadra è un collettivo forte? Sì, perché tutti i giocatori che vengono chiamati in causa fanno sempre bene, danno sempre il massimo e cercano sempre di mettersi a disposizione della squadra che non è una cosa da tutti e andando avanti di questo spirito si ottengono grandi risultati. Fai reparto da solo? Anche perché poi teoricamente mezz'ora prima dell'inizio dovevi giocare con Pisch, no? Sì, sì, dispiace anche per l'infortunio di Pisch Naller, diciamo che da solo non sono abituato a fare reparto da solo anche perché non sono un giocatore che gioca e spara la porta, però cerco sempre di dare il massimo e mettermi a disposizione per la squadra, per fortuna oggi è andata bene, siamo riusciti a vincere e comunque contro una squadra così non è facile fare reparto da solo, però dai anche i miei compagni mi hanno dato una grande mano e quindi siamo contenti. Grazie.